Buonasera, io farò un intervento molto breve, l'ora è tarda e quindi vorrei essere sintetica nelle mie esplicitazioni, intanto sono molto felice di vedere la grande partecipazione che c'è stata a questo seminario perché insomma vedo tra l'altro nonostante l'ora tarda che ancora c'è interesse e passione per l'argomento quindi evidentemente quando abbiamo deciso di supportare questo progetto ci abbiamo azzeccato cioè abbiamo effettivamente fatto una scelta corretta, d'altra parte questo del fenomeno del bullismo e della sua evoluzione moderna cioè il ciberbullismo è una per fortuna direi una tematica che oggi è all'attenzione dell'opinione pubblica che preoccupa genitori, professori, educatori su cui addirittura l'OMS è richiamato l'attenzione della sanità perché obiettivamente è un problema che io non voglio neanche definire in crescita non lo so se è in crescita, certo prima lo si vedeva in un modo più, come posso dire, più normale diciamo non pensando poi alle sofferenze invece di quei bambini, ragazzi che erano veramente vittime di questo fenomeno io direi che oggi c'è sicuramente più attenzione quindi non so se è veramente in crescita ma sicuramente viene più all'attenzione quindi viene più allo scoperto le vittime denunciano, le vittime cercano aiuto, le vittime vogliono essere aiutate ma anche io direi quelli che si pongono come persecutori diciamo così possono e vogliono cercare capire e forse anche rimettersi sulla giusta strada e quindi un progetto come questo che affronta in maniera globale a 360 gradi la tematica che si pone al centro dei ragazzi che io oggi ho sentito parlare di magistratura di assistenti sociali, è vero spesso questi fenomeni nascono poi in famiglie che hanno problemi e quindi poi questi problemi vengono riversati nell'ambiente scolastico ecco però io sono dirigente del settore prevenzione collettiva e credo profondamente nella prevenzione ancora ecco non bisognerebbe decisamente arrivarci a questa situazione in cui il ragazzo arriva in ospedale perché o l'hanno menato ben bene diciamo così dal punto di vista fisico psicologico quindi bisognerebbe che questa situazione arrivasse prima all'attenzione dei docenti anche degli educatori perché se la famiglia è disattenta io credo che la scuola invece non possa esserlo perché lì ci sono dei professionisti che devono essere in grado di evidenziare, di rivelare questi segni del bambino, del ragazzo che subisce, che è vittima del bullismo, del ciberbullismo che io tra l'altro il ciberbullismo lo considero quasi peggio del bullismo in senso tradizionale perché ha delle caratteristiche di perpetuarsi all'infinito in pratica per cui come dire neanche togliendo il ragazzo dall'ambiente che ha creato il disagio si riesce a volte a come dire a risolvere la situazione proprio perché internet per certi versi si auto perpetua nell'ettere diciamo ma soprattutto nel tempo quindi io credo che progetti come questi che la regione toscana e qui noi abbiamo agito su due fronti perché io rappresento la sanità ma stamattina ha parlato, oggi nel primo pomeriggio ha parlato Sara Mele che è la mia collega che invece si occupa della scuola siano non utili, necessari, sono doverosi secondo me proprio perché la scuola deve essere un luogo di una crescita armoniosa del ragazzo non può essere il luogo dove il ragazzo va con la paura di chissà che cosa mi può succedere è chiaro che quel ragazzo non imparerà, non apprenderà, non farà come posso dire il suo percorso scolastico regolare proprio perché non sereno, non sicuro nell'ambiente in cui vive quindi noi siamo molto contenti dei risultati che ci sono stati su questo progetto sicuramente continueremo a supportarlo vorremmo comunque che si uscisse anche dalla fase progettuale e quindi ora vedremo un po' anche come è possibile mettere a disposizione una rete magari che può essere poi messa a disposizione come dicevo dell'intera comunità e sono molto anche contenta di aver sentito parlare di collaborazione, rete perché deve essere un qualcosa che non coinvolge solo la scuola anche la scuola non la si può scaricare dicendo fa tutto la scuola, deve essere la scuola dietro ci sono le famiglie giustamente che vanno supportate quindi credo che sia importante questo come esempio di progetto positivo ma che come dire deve essere un punto di partenza non ci possiamo fermare qui ma bisogna cercare di allargare la visione cercare di capire che questo può essere uno strumento forse neanche l'unico, ci possono essere altre progettualità altri strumenti che hanno altrettanta valenza questo secondo me ed è per questo anche che noi abbiamo cercato di supportarlo è particolarmente come dire rilevante anche per la caratteristica legata alla peer education quindi al lavoro fatto all'interno della comunità dei ragazzi che quindi prendono coscienza di quelle che sono le situazioni e che oggi come oggi è una delle indicazioni che ci danno proprio a livello internazionale anche nelle varie agenzie, vari referenti internazionali come uno degli esempi migliori per appunto lo sviluppo delle capacità anche personali del ragazzo stesso quindi ecco da cosa è nata anche la scelta però torno a dire non vorremmo limitare la cosa dire bello, è un bel progetto, è riuscito bene abbiamo coinvolto non so quante scuole abbiamo coinvolto qualche migliaio di ragazzi ma i ragazzi sono molti più di qualche migliaio le scuole sono tante in regione e credo che questo fenomeno non sia un fenomeno legato alla scuola di Scandici piuttosto che ha fatto questo progetto rispetto a tutte le altre scuole che ci sono in Toscana purtroppo come diceva anche la psicologa del Maier questo del bullismo è un fenomeno che insito in certa età in certa età, anzi io sono molto meravigliata addirittura nei bambini dell'asile ora sinceramente sono rimasta un po' sorpresa ecco diciamo così dalla situazione dicevo però si può essere un fenomeno legato alla crescita all'autoaffermazione, a tutto quello che si vuole però quando si arriva poi a determinati limiti si eccede, allora in questo caso è necessario intervenire e secondo me è necessario intervenire nel momento in cui noi cogliamo le prime avvisaglie prevenire, torno a dire, è sicuramente l'obiettivo che noi abbiamo la prevenzione è sicuramente il punto a cui noi dovevamo tendere ecco, volevo semplicemente dire questo, grazie